Partiamo dalla parte finale, dagli auguri di buon 2018 che possa essere un 2018 importante e di grandissima rinascita per i colori rossoneri. Sì, vorrei fare gli auguri a tutti voi, a tutti i tifosi della Nocerina che sono sempre cordiali, sempre disponibili con noi. Speriamo che nel 2018 ne vengono ancora di più per darci una mano, per finire il campionato nei migliori modi possibili. E speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti all'inizio del campionato. Bilancio di metà stagione, vi siete risollevati con la vittoria di Troina. La squadra ha dimostrato innanzitutto un grandissimo spirito di gruppo, è fondamentale in un campionato del genere dove è appunto la squadra che fa la differenza, non certo il talento del singolo. Sì, prima della partita di Troina ci avevano dati quasi per spacciati, però il calcio è bello anche per questo. Siamo andati a Troina con la consapevolezza di essere una squadra forte, siamo andati lì a prendere tre punti molto importanti, anche perché il Troina veniva da otto vittorie consecutive. Siamo andati lì a fare la nostra partita, ci siamo portati i tre punti a casa e niente, ora abbiamo riaperto il campionato e sta a noi ora continuare a far bene. Chiudiamo con il punto di vista personale, mister Morgia ti ha voluto fortemente qui tenendo conto delle recenti esperienze in comune, stai ripagando in pieno la fiducia con un bel po' di gol, magari un pizzico di rammarico personale perché magari a questo punto della stagione ci sarebbe stata una classifica a marcatori migliori dal tuo punto di vista, però si guarda anche e soprattutto a quello che è il rendimento della squadra. Sì, questo è il quarto anno che sono con il mister, con lui ho fatto sempre abbastanza bene, quest'anno mi ha voluto fortemente qua anche perché lui sapeva che ero già stato qua anni passati, Piazza già conoscevo, sì potevo avere tre o quattro gol in più perché da parte me ne sono mangiati, dall'altra parte un po' di sfortuna però il bilancio è positivo, spero di migliorarmi ancora di più nel giorno di ritorno e fare ancora tanti gol e cercare, ti ripeto, di portare a casa quella vittoria che speriamo tutti.